Buonasera a tutti, seconda seduta di fila in deciso rialzo per i destini europei condizionati dal rally messo a segno da Wall Street dopo l'accordo su un maxipacchetto da 2000 miliardi aiuti di Trump che dovrebbe essere votato stasera. Un rimbalzo che per ora è ancora fragile ma che ha consentito appunto diversi mercati, soprattutto anche le piazze finanziarie europee, di risalire dai minimi raggiunti le scorse settimane. Andiamo a vedere come hanno chiuso le principali piazze finanziarie europee, DAX che chiude a più 1,79%, IBEX a più 3,35%, CAC di Parigi addirittura che chiude con un ottimo 4,47%, il FUTS di FUTS di Londra a più 4,26% e FUTS MIP che chiude anch'esso con una buona performance a 1,74%. Oggi per quanto riguarda le news che sono state rilasciate oggi, segnali decisamente negativi in arrivo per quanto riguarda la situazione legata al mondo imprenditoriale tedesco che crolla ulteriormente la lettura finale dell'indice IFO Business Climate che misura la fiducia delle imprese in Germania che si è testato a 86,1 punti a marzo del 96 del mese di febbraio. In peggioramento rispetto agli 87,7 punti della stima preliminare si tratta del maggior calo mensile di sempre. Il recupero dell'inflazione del Regno Unito lo rileva l'Official Four National Statistics spiegando che sul base annua i prezzi al consumo hanno segnato un aumento dell'1,7% in livello di accelerazione rispetto a più 1,8% rilevato a gennaio e atteso dagli analisti. Su base mensile l'inflazione è salita dallo 0,4% rispetto al meno 0,3% di gennaio. Le stime del consensus erano per un più 0,3%. Gli ordini di benedurevoli invece negli Stati Uniti hanno evidenziato a febbraio un balzo dell'1% rispetto al mese precedente sorprendendo il mercato. Gli analisti infatti si aspettavano un calo dello 0,8% dopo che a gennaio si era assistito un aumento minimo pari a un più 0,1%. Andiamo invece a vedere un po' domani che cosa ci offre il calendario macroeconomico. Giovedì 26 marzo alle 10.30 abbiamo altri dati in arrivo dalla Gran Bretagna con le vendite al dettaglio del mese di febbraio. Alle ore 13 i verbali dell'ultimo incontro della BOE. Poi alle 13.30 sarà la volta del PIL del quarto trimestre degli Stati Uniti. E poi sempre alle 13.30 le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione. Bene, ora passiamo ad analizzare i migliori scelte partendo dai setup che ancora stiamo a mercato. Euro-Dollaro, Euro-Dollaro che è con continuo quindi una zona chiusura del ciclo ribassista per quanto riguarda i dati cotte inizio di un ciclo rialzista. In questo momento ci troviamo esattamente a 90 punti di profitto. Mentre invece per quanto riguarda altre operazioni che abbiamo a mercato, US crude, le quotazioni sono appoggiate su una trendline, eccola qui, adesso andiamo a vedere, quindi test di questa trendline. Dopo che è andato a testare l'altra trendline, un attimo che prendo la penna, vedete come è andato, quindi le quotazioni siamo sempre all'interno di una zona di un'area, diciamo ancora di congestione un po' particolare, però vedete come dopo che è stato testato in questa zona c'è stato un test, poi ripartiamo su quest'area, su questa zona, da qui si è appoggiato il prezzo e poi da qua potrebbe dare un'altra piccola spinta rialzista che se rompe questa micro resistenza potrebbe andare a raggiungere quest'altra zona dove appunto è presente anche il pivot settimanale a 24,47, quindi aspettiamo una ripartenza long dopo che abbiamo già le prime indicazioni, vedete come si sta formando la candela oraria, quindi farsa rottura del minimo e da qua potrebbe partire la movimentazione rialzista. Mentre invece per quanto riguarda la situazione, per quanto riguarda l'oro abbiamo ancora un'operazione long, oggi è stata una bella operazione, una bella giornata, USDCAD chiuso le due operazioni a 130 punti, anche EuroCAD chiuso tutte e due le operazioni, DAX 200 punti, il Dow Jones quindi due operazioni andate tutte e due a 230 e 300 e dispari punti, quindi ottimi risultati. Anche qua per quanto riguarda la situazione legata all'oro abbiamo, siamo fuori la zona questo rettangolo, rettangolo di inversione a freddo praticamente, di inversione al trend che al momento rimane ancora rialzista anche su quattro ore. Bene, le quotazioni praticamente si sono fermate proprio al test di questo livello di prezzo a 1616,20, vedete, ma la rottura di questo potrebbe comportare una continuazione quindi del movimento precedente alla formazione di questo canale, quindi A, B, C e D, con AB maggiore AB maggiore uguale a CD fondamentalmente. Bene, mentre invece per quanto riguarda altre situazioni interessanti andiamo a vedere invece il dollaro yen, la situazione sul dollaro yen, bene, dollaro yen, abbiamo una rottura della trend line però siamo sempre all'interno di questa zona di congestione, aspettiamo domani cosa succede, passiamo a sterlina dollaro, un altro setup, un altro scenario che teniamo sotto osservazione, anche qua vedete la situazione dopo che è andata a prendersi questo 50, 61,8 ed a ne stare il pivot giornaliero, oggi c'è stato questo movimento però mi aspetto un breakout sopra 1,19 ed 1,19, 1,20 per opportunità long. Mentre invece per quanto riguarda l'operazione che è USDCAD, allora adesso vi faccio vedere perché sono uscito tutte e due l'operazione a più 65 punti quindi al mercato in quanto le quadrazioni stavano in questa zona, però sembra che adesso ha ripreso la discesa, ovviamente bisogna andare a vedere qui che cosa succede, qui abbiamo una zona di demand già testata diverse volte in questa zona, anche qua abbiamo una falsa rottura e niente qui potrebbe ritornare su, quindi ho preferito, anche se adesso sembra che vuole scendere, però ho preferito chiudere l'operazione a mercato. Per quanto riguarda invece altri setup interessanti, stamattina, oggi stavamo guardando altre indicazioni interessanti, in particolare euro-dollaro australiano, andiamo a vedere la situazione su euro-dollaro australiano, beh al momento vedete c'è una zona in cui dopo questo massimo siamo in H4, quindi si sta formando una fase rialzista con un massimo e minimi decrescenti, qui vado ad identificare una zona 50, 61,8, da qua potrebbe essere interessante dove appunto si poggia anche questo livello di demand interessante per opportunità sell, mentre invece per quanto riguarda un altro setup di ingresso a mercato potrebbe essere anche euro-new-zeeland, andiamo a vedere anche la situazione su euro-new-zeeland, allora euro-new-zeeland al momento, vedete questa, anche qua, vedete, situazione un po' anomala, al momento ha rotto questo livello di questa trendline, però è rientrata giù, aspetto altre indicazioni da parte del mercato. Poi abbiamo un'altra operazione, OutCard, che in questo momento stiamo a 30 punti di profitto, eccoci qua, quindi sta andando giù, si sta movimentando giù, quindi potrebbe andare a testare questa trendline, aspettiamo quello che succede più tardi. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo domani mattina con la quarta diretta live della settimana alle ore 8.30. Buonasera da tutti.